Complimenti, tutto il papà. Veramente sono due. Due gemelli uguale a lei. Sarà contenta sua moglie. Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini. Ma faccio anche due passi e parla da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.